Ed eccolo qui! Che dite, vi piace? Andiamo ad appenderlo! Prima di salutarvi, però, voglio presentarvela. L'avete vista tante volte, sempre che dorme. Adesso è sveglia ed è mirtilla. Saluta! E finisce così un'altra puntata di Arte che Passione. Mi raccomando, non esitate a scrivere se avete bisogno di consigli. Il mio indirizzo email ormai lo conoscete. Ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti da Serena!